Il 23 marzo Isverro di Caution Society presenta Festa d'Uccupation 14 per informazione 416-245-2376 Il 27 marzo Società Unida è chieda tutti alla Santa Messa in memoria di sua campionina Tarantino alle ore 19.30 verso la chiesa di San Pasquale Belon attorno per informazioni 416-243-7319 Il 30 marzo Isverro di Cronombo organizza l'annuale testa Festa in Flock a World Trade per informazioni 9.05-893-72-18 Il 30 marzo Isverro di Cronombo Siamo italiani anziani presentano una serata di primavera per informazioni 416-588-342 Il 6 aprile Isverro di Cronombo presenta l'annuale Spring Fino Dance a Tornino per informazioni 416-285-9775 Il 8 aprile Benzile di San Pio presso la chiesa di San Bernardo posizionato alle ore 19 seguita dalla Santa Messa per informazioni 416-241-6738 presso la chiesa di San Pio Salute America, ti porti sulla mia vita, li braccia mei e appunti sul lato, e ti scusi, se non presto di sida, e se ti porti, se la mangi andate. Il quando di dicembre, il nome del mattino, stuta la stese spargato, o forzi il procolino, di grattacieli, di gran gran città, e fare gaspapato, la mia vita, i giovani, di grattacieli, 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 di grattac Grazie.